Antonio Nottafuri, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, problema del Tribunale di Ischia. Ormai sembra tutto pronto per la chiusura. Voi che cosa vi auspicate e cosa cercate di fare per salvarlo? Noi non ci arrendiamo all'idea che lo Stato arretri e che ci si possa rassegnare di fronte alla difficoltà organizzativa di mantenere un tribunale in quella che è un'isola che è paragonabile a tante città d'Italia che invece sono sedi di tribunale. È impensabile che un'isola con ovviamente tutti i problemi che derivano dal fatto dello spostamento dalla terraferma all'isola possa essere privata di un presidio di giustizia con problemi per la popolazione, con problemi che riguardano i disabili che abbiamo invitato infatti all'assemblea di stamattina, con problemi che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. La battaglia e la non rassegnazione degli avvocati significa proprio questo, significa fare gli interessi della cittadinanza e delle persone comuni. Lei mi chiedeva che cosa auspichiamo. Noi auspichiamo non tanto il mantenimento del tribunale di Ischia ma il rispetto da parte dello Stato della richiesta di giustizia che proviene dalla cittadinanza, rispetto della legalità. Non possiamo abbandonare un territorio e arrenderci di fronte all'inefficienza e fare sì che si instauri la legge del più forte. Manca il personale ma manca anche perché si va di proroga in proroga, quindi c'è anche difficoltà di accettare la nostra isola. Sì, questo punto è un punto particolarmente complesso perché di fatto ci sono i problemi che vengono sia dal personale amministrativo che dal personale magistratuale nello spostamento, il che poi trova la sua origine appunto proprio nella precarietà di questa sezione di staccata. Se si dovesse riuscire a raggiungere l'obiettivo principale che è quello della stabilizzazione della sezione di staccata e allora con ogni probabilità anche questo problema della non disponibilità sia del personale amministrativo che del personale magistratuale potrebbe essere superato perché è chiaro che quando si vuole distaccare un amministrativo o un magistrato soltanto per pochi mesi c'è tutto che disincentiva questo spostamento precario e noi diciamo censuriamo questa scarsa disponibilità delle persone che vengono applicate a Ischia. Umanamente si può anche trovare una spiegazione, mi faccio dire non tanto una giustificazione ma una spiegazione la troviamo. Lei cosa pensa? Che a dicembre ci sarà un'altra proroga oppure ci sarà una decisione definitiva? Beh qua mi riaggancio a quello che dicevo all'inizio, non ci rassegniamo, lottiamo fino all'ultimo, lotteremo fino al 31 dicembre e speriamo che la classe politica dimostri veramente di essere sensibile per le esigenze di giustizia e quindi speriamo che questa proroga per poi poter arrivare a compiere gli ulteriori passi sulla stabilizzazione si riesca ad avere.